Oggi mentre registro questa clip è il primo maggio, festa del lavoro, un primo maggio evidentemente molto diverso da quelli che abbiamo vissuto negli scorsi anni, visto che viviamo un tempo che molti nei loro discorsi accostano retoricamente o meno ad un tempo di guerra. Questo accostamento è stato proposto da varie angolazioni, c'è chi lo ha fatto anche in queste stanze ponendo ad esempio all'affronto i problemi odierni dell'Unione Europea con la genesi per l'appunto post bellica del processo di integrazione europea. Oppure c'è chi nell'ambito di altre scienze sociali ha indagato il lessico della comunicazione pubblica ed il ricorso ad una sorta di retorica parabellica intorno alla battaglia così definita appunto contro il virus. Io mi occupo di diritto del lavoro e quindi vorrei qui condividere con voi qualche considerazione che trae spunto dalla recente adozione di una norma di legge, di una norma contenente un esplicito divieto di licenziamento dei lavoratori dipendenti che venga determinato da esigenze di ristrutturazione, riorganizzazione, riduzione di personale, insomma da ragioni economiche e organizzative di carattere oggettivo. Ragioni queste che se si manifestano nelle forme e con le sembianze richieste dal vigente diritto del lavoro in tempi normali giustificano e rendono pienamente legittimo il licenziamento. Questo divieta un carattere temporaneo e destinato a protrarsi per 60 giorni anche se già ne è stato pubblicamente preannunciato un prolungamento per un ulteriore arco di tempo. Ecco a sollecitare la nostra attenzione nel prisma di quel gioco di analogie o assonanze tra guerra e pandemia di cui dicevo, gioca qui la circostanza che una norma di questo tipo suona perlomeno simile, come molti hanno sottolineato, ad uno specifico antecedente storico contenuto in un decreto legislativo luogotenenziale del settembre 1945, il che dunque si suscita da un lato qualche riflessione comparativa sui problemi del governo della società in questi due contesti storici e dall'altro ci stimola a mettere a fuoco e a cercare di comprendere quale concezione o visione del lavoro serpeggi oggi nella nostra società e nelle scelte del legislatore e se questa concezione possa dirsi pienamente aderente all'idea che di esso, cioè del lavoro, è propugnata nella nostra Costituzione Repubblicana. L'antecedente del 1945 conteneva un divieto circoscritto applicabile soltanto alle imprese del comparto industriale dell'Alta Italia e faceva ovviamente salvi, come anche oggi, i licenziamenti disciplinari dovuti ai inadempimenti del lavoratore e quelli dovuti al rifiuto eventuale del lavoratore di accettare un'altra occupazione che gli fosse stata offerta da altro datore di lavoro. I lavoratori in esubero, che l'impresa non avesse potuto utilmente impiegare, venivano così collocati in una posizione di aspettativa e avevano diritto a percepire un trattamento di integrazione salariale. Già, perché sin dal 1941 aveva visto la luce un istituto, la Cassa Integrazione, che allora tuttavia presentava fattezze diverse da quelle che noi oggi conosciamo e che si manifestano in un intervento dello Stato attraverso iniezioni finanziarie di denaro pubblico. La Cassa Integrazione fu allora concepita e poi rilanciata, tra l'altro, da un successivo accordo sindacale del 1945 nella prospettiva della ricostruzione col concorso dei ricostituiti sindacati liberi, la Cassa, dicevo, fu concepita come strumento di solidarietà categoriale alimentata e finanziata dalle imprese per evitare la dispersione della forza lavoro nelle transizioni e riconversioni della produzione dal tempo di pace al tempo di guerra e viceversa. Di quel divieto di licenziamento era originariamente prevista in realtà una brevissima durata di poche settimane, anche se poi in seguito furono introdotte ulteriori disposizioni che sostanzialmente contingentavano, pur non impedendole del tutto, le operazioni di riduzione del personale di cui singole imprese avessero avuto necessità, le contingentavano a determinate quote percentuali dell'organico, sino a quando infine nel 1947 un decreto del capo provvisorio dello Stato pose fine alla transizione. Le finalità perseguite da quelle norme come da quella odierna sono intuitivamente individuabili e consistono nella salvaguardia dell'occupazione a fronte della crisi. E però a ben guardare, al di là di troppe sbrigative assonanze, ci sono molti fattori che ci impediscono in realtà di ritenere che quella esperienza regolativa possa essere considerata equivalente a quella oggi sperimentata dal legislatore del 2020. Molto diverso è anzitutto il complessivo quadro giuridico. E non lo dico ovviamente solo per il rilievo che nel frattempo è entrata in vigore la Costituzione, tanto che qualcuno oggi si chiede se il divieto di licenziamento non entra in tensione con il principio di libera iniziativa economica riconosciuto dalla nostra carta fondamentale. Una tensione, una collisione che io personalmente non reputo sussistente, data la natura breve e transitoria del divieto, ma che diverrebbe, forse, meno per grino ipotizzare qualora il divieto perdurasse nel tempo. Ma soprattutto, e questo è l'elemento più rilevante di discontinuità, vige dalla seconda metà degli anni 60 del secolo scorso, una disciplina legale, oggi assai articolata, che, come noto, vincola la facoltà di licenziamento alla sussistenza di necessari presupposti giustificativi. Una facoltà, quella di licenziamento, che nel 45, al netto di quell'eccezionale divieto, era invece liberamente esercitabile. Nel 45 poi, al contrario di quanto accade oggi, si adottava quel divieto nel momento dell'uscita dal dramma e dunque nella prospettiva della rinascita e della ricostruzione, che permetteva espansione e crescita economica. E, non ultimo in ordine di importanza, profondamente diverso era il contesto degli scambi economici e commerciali, poiché le imprese si trovavano per lo più ad operare in mercati domestici, spesso protetti, niente affatto comparabili alle sfide poste oggi dalla competizione internazionale e globale, di fronte alla quale ogni inefficienza organizzativa, si trattasse anche di inefficienze consistenti in un posto di lavoro divenuto obsoleto o semplicemente sovrabbondante, risulta sempre più difficilmente sopportabile da parte delle imprese. Tutto questo, quindi, credo ci debba suggerire una speciale attenzione al fine di evitare che, non avendo potuto tempestivamente riorganizzarsi, ristrutturarsi attraverso un licenziamento, un evento cioè certamente doloroso per la persona in carne ed ossa che lo subisce, l'impresa sia però costretta a procedere poi, una volta cessato il divieto, non più ad uno ma magari a due licenziamenti. Il che, insomma, ci mostra come le scelte normative implichino cura e conoscenza attenta degli effetti che esse possono generare, anche per evitare evidentemente che ne discenda un'eterogenesi dei fini. Ma vi è poi un altro profilo più generale sul quale siamo sollecitati a riflettere e che le regole emergenziali adottate oggi pongono con particolare urgenza. Nelle scorse settimane, come sapete, sono state emanate norme, non solo quelle di cui abbiamo appena parlato, consistenti in un poderoso pacchetto di cosiddetti ammortizzatori sociali miranti al sostegno del reddito in ragione del temporaneo impedimento al lavoro. Già, ma di quale lavoro? Quello attorno a cui si è sviluppato il diritto del lavoro, come si sa, è coinciso storicamente con una forma ben precisa di lavoro umano, una forma che non le abbraccia tutte ma che si identificava con il prototipo del lavoro salariato, conseguito i primi processi di industrializzazione e che evidenziava un particolare bisogno di protezione normativa. Il lavoro, insomma, del primo maggio di Chicago, il giorno delle prime grandi manifestazioni sindacali, nonché il giorno dell'entrata in vigore della prima legge che nello Stato dell'Illinois poneva già nel 1867 limiti alla durata della giornata lavorativa. Di questo lavoro si è occupato il diritto del lavoro cresciuto e sviluppatosi poi per tutto il Novecento, corredandolo di tutele e di protezione. Ma il lavoro, in una accezione più ampia e comprensiva, è molto più di questo. È, nella nostra Costituzione, la pietra su cui poggia l'intero edificio. È, in questa sua dimensione, un lavoro senza aggettivi, che non si esaurisce nella sola figura socialmente tipica dell'addetto della grande fabbrica industriale. È il lavoro, come dice l'articolo 35 della Costituzione, in tutte le sue forme ed applicazioni. E se è vero che la società si è progressivamente innervata di tutele e protezioni sociali di crescente consistenza, è vero al contempo che la società si è anche andata segmentando, facendo emergere nuovi bisogni di tutela e generando anche dualità e contrapposizioni nel mercato del lavoro, facendo emergere squilibri, fin anche potenzialmente contrapponendo gruppi di soggetti, chi un lavoro attualmente ha e chi un lavoro attualmente non ha, uomini e donne, giovani e anziani, persone residenti in diverse aree territoriali, lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, lavoratori muniti e lavoratori privi di speciali competenze professionali, lavoratori del settore privato e lavoratori del settore pubblico, imprese operanti in mercati chiusi e imprese esposte alla competizione globale. Insomma, soggetti protetti e non, profilando in definitiva sullo sfondo, un latente e potenzialmente dirompente conflitto tra quelli che personalmente chiamerei produttori di ricchezza da un lato e consumatori di ricchezza dall'altra. Categorie queste, evidentemente, che non possono più certo esser fatte coincidere con le classi sociali disegnate dall'industrializzazione tardo-ottocentesca. In gioco, badate, è un bene di grande importanza tanto più nel tempo della crisi, la coesione sociale. E questo ci deve ammonire sull'importanza di evitare, ad esempio, che una allocazione diseguale e iniqua dei sacrifici e delle misure emergenziali oggi accentui anziché attenuare le segmentazioni, contrapponendo gruppi sociali tutelati a gruppi sociali non tutelati. Ecco, se c'è un veicolo, perché possa esservi fino in fondo leale solidarietà con il concorso di tutti, questo veicolo è il lavoro. Qualunque forma di lavoro, senza distinzione. Il lavoro, cioè, come architrare dell'intera struttura sociale. Un lavoro che rifugge dall'illusorio pensiero che la società sarebbe migliore se lavorassimo di meno. Quasi che il prezzo del generale improvverimento non finisca in realtà sempre per scaricarsi inesorabilmente sui più deboli e sugli ultimi della fila, che non possono permettersi il vezzo di cullare idee che definirei naif più che romantiche, probabilmente ingannevoli, di certo decadenti. Noi tutti oggi siamo chiamati a una prova di rigore e di razionalità. E, a ben vedere, anche di fronte ai dilemmi drammatici che ci pone la pandemia, noi non possiamo non comprendere che nel delicatissimo bilanciamento di valori che si rende necessario, in fin dei conti, senza lavoro non potrebbe esservi nemmeno un'efficace e piena tutela del primario diritto alla salute. Semplicemente senza lavoro non può esservi nulla. Senza lavoro non vi sarebbe nemmeno la Repubblica Democratica che sul lavoro si fonda.